Il gol, il primo, quasi a sorpresa, è stato di Iachini. Splendida invenzione verso il quindicesimo, da fuori area con Benevelli in contropiede. I gol sono tanti, allora saltiamo al secondo tempo. In fondo ha avuto ragione Desisti a schierare due punte, Pulici e Monelli. L'Atalanta ha tentato il pareggio, neanche molto convinta, ed ha rischiato dopo otto minuti. Benevelli infatti anticipa Monelli, ma poi capitola. E' sempre Monelli che approfitta del pallone sfuggito al portiere e raddottiamo. E' il momento dei gol di marca sudamericana. Ecco quello del brasiliano Socrates al diciassettesimo. E otto minuti dopo la spettacolare risposta di Passarella. Si va di otto minuti in otto minuti evidentemente, perché ad otto minuti dalla fine il perfetto Tullio Lanese non si esime dal rigore per questo fallo sul Massaro. E Passarella non perdona. 5-0, quasi senza parere, in una partita, tutto sommato, a senso unico.